Buongiorno a tutti, sembra un po' lo zio Fester ma vabbè fa niente. Allora, 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 serie B, siamo arrivati alla serie B ragazzoli. Allora innanzitutto dobbiamo parlare di questo Catanzaro Como che come al solito mi hanno spoilerato. Io ero lì che bello, oggi mi guardo Catanzaro Como, non hanno scritto ancora nulla. Allora, vado sul WhatsApp del Fantacalcio e Gabrielloni di qua e Gabrielloni di su e Gabrielloni di giù e il Gigi continua a dire che, ragazzi miei, Gabrielloni ha fatto otto gol in serie B. Non è che ne ha fatti sedici, non è poi a un palo che ne ha fatti diciannove, ne ha fatti otto. Io non posso esaltare un giocatore che fa otto gol in serie B. Io su Gabrielloni faccio notare l'impegno, lo sbattimento, tutto quello che volete. Sta segnando finalmente, ha segnato anche col Catanzaro. Adesso andremo anche alla partita, però ha fatto otto gol. Arrivasse a 15-16 a fine stagione, dico ok, ma se forse arriva a un 10 già tanto, schisci, schisci. Poi magari mi segnò la partita al libidine e ok, però in 30 giornate ne ha fatti otto. Tra l'altro Cherry se ne è andato e non ritorna più e è lì a fare il curucu a Empoli. E lui adesso gioca sempre. O accanto a Cutrone che il poverino ha avuto un po' di problemini, o se no accanto a qualche altro giocatore. Però sta segnando adesso, un libidine. Io l'impegno a Gabrielloni gliel'ho sempre riconosciuto, ci mancherebbe dall'anno scorso, non solo da quest'anno. Però ha bisogno di segnare di più. Comunque andiamo a Kovo a Catanzaro. Primo tempo un po' equilibraterlo. Cutrone prende il solito palo. Un salto all'URD non sarebbe male. Penso che sia il giocatore che ha preso più pali della storia della Serie B. Non solo quest'anno tra i giocatori. Nella storia della Serie B penso che ne avrà presi una quindicina. Ma poi dopo non è che sono la maggior parte. Poi sono tutti pali. Il portiere è battuto, che può solo soffiare. Perché sai, un conto è il palo, il portiere ci arriva, te la respinge e la manda sul palo. Lì più che sfortuna è bravura del portiere. Ma quando va secca sul palo col portiere, che può solo soffiare, lì è... Pruzzo dice un gol sbagliato. È sempre il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Perché il gol sbagliato è quando sei a porta vuota a due metri, ti riprendi il palo. Lì è un gol sbagliato. Ma quando tu tiri dai 16 metri o da appena dentro l'area, miri l'angolino, oppure vai di testa in tuffo volante, prendi il palo, ragazzi, vieni... Cioè... Lì è sfiga. Non è un gol sbagliato. Comunque, prima del palo del buon Cutrone, il Como era andato sotto. Tiro di Van de Putte, che già il nome vi fa scompisciare da ridere, ma non è male. Ha fatto gli stessi gol di Gabrielio di Van de Putte. Per farvi capire il livello. Ottavo gol del campionato per Van de Putte, esterno del Catanzaro. Neanche punta. Gioca esterno. Gioca a Alate. Tiro verso la porta, che probabilmente è il buon sempre. Invece il povero Odental, se non sbaglio, mani dietro la schiena, va col petto a respingerlo con l'intenzione di darlo in calcio d'angolo, invece lo butta nella propria porta e Catanzaro in vantaggio. E' prima tempo che termina appunto col Catanzaro in vantaggio. Nella ripresa arriva il gol del pareggio appunto di Gabrielloni. E come lo segna Gabrielloni il gol? Lo segna in stile Aldo, Giovanni e Giacomo nella spamosa partita di tre uomini e una gamba. Solo che anziché nascondersi sotto la sabbia si nasconde vicino al difensore e poi furbescamente si tuffa ad anticipare il pallone, ad anticipare il difensore su sto pallone deviato che si impenna. Lui praticamente dov'è? Qua c'è un difensore, qua c'è l'altro difensore, e lui è lì in mezzo tra i due un po' attaccato al secondo difensore si inserisce di testa tuffandosi beffando che non se l'aspettava che questo andasse giù di testa a colpire la palla e pareggiando il gol del Catanzaro. Subito dopo, neanche il tempo di passare al pareggio, arriva il gol del 2-1 di D'Acudio e qui è un cross sul secondo palo che è bravissimo a spizzare di testa il buon Cutrone. Gabrielloni prova lo stop, non ci riesce, la palla schizza via e il più lesto di tutti a limitare l'area piccola è il buon D'Acudia che da due passi batte il portiere del Catanzaro. Anche lì però il portiere del Catanzaro dorme perché siamo nell'area piccola quel pallone deve essere su categoricamente anche perché era una palla rasoterra non era neanche uno spiovente vede che tu devi essere un gattone un gattone ad andare su quel pallone e ce lo lasci lì come un curucu e D'Acudia PEM 2-1 Como e poi all'ultimo minuto il portiere del Catanzaro che ha un nome particolaus devo dire che ha dei piedi che è Onanas levati proprio si porta in attacco il buon Fulignati Fulignati tenetelo perché può essere un portiere che piace alle squadre che amano giocare da dietro avere il portiere con questo c'è i piedi buoni ha fatto un cross dalla tre quarti che mamma mia mamma mia per fortuna nel Como un giocatore che ha pucciato il biscottino era in fuorigioco doveva essere Petriccione ma non non mi ricordo esattamente aspettate che vado in cronaca no non me l'hanno messo no non me l'hanno messo il gol annullato nella cronaca e il gol annullato non si mette mi fanno tutte le sostituzioni possibili immaginabili mi mettono il gol del comodo mi mettono il gol annullato comunque praticamente arriva questo cross dalla tre quarti colpo di testa bello preciso all'angolino tutti che esultano iuuhu 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 ahimè il giocatore più avanti di poco di pochissimo però più avanti gol annullato e come che si porta a casa direi anche meritatamente anche per i due pali colpiti perché uno lo prende Cutrone uno lo prende non so se da Cugno chi per esso altro palo a portiere battutissimo Catanzaro si primo tempo ha giocato forse un attimino meglio ma non è che sempre abbia fatto chissà che parata l'unica parata difficile è stata nel secondo tempo su un mezzo cross che lo stava beffando perché stava andando nell'angolino e lui l'ha smanacciato un po' all'ultimo non sa per se è disturbato dal sole o che cosa anche perché aveva il cappellino però l'ha smanacciato all'ultimo perché stava per essere beffato da un tiro da casa sua per il resto parate non me ne ricordo di importanti quindi vittoria 2 a 1 del Como tre punti pesantissimi ma adesso andiamo a vedere com'è andata il resto della giornata allora 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 la Cremonese è andata a vincere a Bari 2 a 1 nell'anticipo del venerdì il Brescia ha battuto 3 a 1 il Pisa Feral Pissalò e Cosenza hanno pareggiato 2 a 2 un pareggio abbastanza inutile per la Feral Pissalò che avrebbe dovuto vincere questa partita il Parma che ormai sta facendo il countdown per la promozione in Serie A pareggia 0 a 0 col Sud Tirol la Ternana pareggia 0 a 0 con il Modena il Lecco va a pareggiare 1 a 1 con lo Spezia questi sono due punti buttati per lo Spezia che era passato in vantaggio per primo ma poi è stato raggiunto da Buso alla fine del primo tempo poi il Lecco è rimasto pure in 10 dal 66esimo ma ha retto ha portato a caso un punto inutile che però è un punto che è sanguinoso se permettete il termine per lo Spezia che adesso torna in piena zona Serie B e sarebbe clamoroso lo Spezia che vi fa il gambero Serie A Serie B Serie C Attenzione il Cittadella va a vincere 2 a 0 in casa della Reggiana mentre invece il Palermo pareggia 2 a 2 con la Sampdoria e anche per il Palermo dopo la sconfitta con il Como della domenica precedente questo pareggio potrebbe costare caro infine l'Ascoli pareggia 0 a 0 con il Venezia pur rimanendo in 10 però dal 90 ormai a partita finita il buon Bellucci ha pensato bene di farsi espellere al 90 più 8 quindi non si può neanche dire che il Venezia non ha sfruttato l'occasione dell'uomo in più perché praticamente l'hanno espulso poi è finita la partita detto questo ragazzoni andiamo a vedere la classifica perché la cosa si fa interessante allora il Parma è a 66 punti il Como sale a 61 la Cremonese a 59 quindi è lì a 2 punti dal Como il Venezia scende a 58 il Catanzaro resta a 52 ma comunque ancora quinto il Palermo nonostante il pareggio è sesto a 50 e quindi anche lui è abbastanza tranquillo in settima posizione troviamo il Brescia a 45 la Sampdoria a 44 il Cittadella a 42 il Pisa e la Reggiana a 40 tutte queste squadre possono ancora ambire ai playoff il Sud Tirol e il Modena a 39 vediamo vediamo non si sa mai perché è un attimo ritrovarsi in zona playoff comunque sono tranquille per la zona salvezza e poi ci sono le squadre che lottano per salvarsi Cosenza e Bari e Spezia a 35 quindi lo Spezia per ora è tranquillo tra virgolette perché per differenza reti andrebbe lo Spezia a fare i play out con la Ternana che è a 33 mentre se il campionato finisse adesso Ascoli, Feralpi, Salò e Lecco sarebbero in Serie C perché l'Ascoli ha 32 punti la Feralpi salò a 31 e Lecco ormai abbastanza condannato a 23 però sta onorando il campionato visto che le ultime due le ha pareggiate contro squadre anche di un certo livello dare a pareggiare con lo Spezia comunque gli togli due punti pesanti per la salvezza per una vittoria dello Spezia contro Lecco probabilmente non dico che ti metti la salvezza in tasca però andavi a più 4 sulla Ternana invece adesso sei ancora in zona play out per la differenza reti andiamo a vedere la prossima giornata di campionato tenendo conto che Venezia, Cremonese e Como si giocano il secondo posto ma adesso il Como con due punti di vantaggio sulla Cremonese è padrone del suo destino se vince le prossime 6 in Serie A se no bisogna vedere cosa fanno anche le altre perché questa Serie B nessuno regala niente le ultime due la Cremonese e l'Ibidia è andata a vincere a Bari ma il Venezia è stato bloccato sullo 0 a 0 da Nascoli che sta lottando per la salvezza ed è terz'ultimo quindi per farvi capire che nessuno regala niente e non si dà nulla per scontato 33esima giornata avremo Modena-Catanzaro Cittadella-Ascoli Cremonese-Ternana Pisa-Feral-Pisalò Como-Bari Samponia-Suttirol Cosenza-Palermo Parma-Spezia Lecco-Reggiana e Venezia-Brescia non ci sono partite di cartello c'è qualche sfidina no ma francamente no non ci sono partite non ci sono sfide tra la prima la terza la quarta poi casinatelle diciamo così una giornata interlocutoria per le prime perché comunque il Como con il Bari in casa dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti non senza difficoltà la Cremonese in casa con la Ternana idem il Venezia in casa con il Brescia idem quindi teoricamente la classifica della seconda terza e quarta dovrebbe rimanere invariata dovrebbe e poi vedremo quelle dietro cosa combineranno si parte come vi dicevo con Modena-Catanzaro che è una partita molto importante sia per l'una che per l'altra squadra perché il Modena si gioca i play-off e il Catanzaro deve cercare di mantenere almeno il suo quinto post perché oramai le altre sono in fuga seconda terza e quarta però lui è quinto con qualche punticino di vantaggio sulla sesta che dovrebbe cercare di riuscire a mantenere perché comunque essere quindi non è malaccio certo devi sempre fare il preliminare però lo fai con l'ottava e poi dopo te la giochi con la con la quarta mentre la terza la terza sfida la sesta la vincente della sfida tra la sesta e la settima vedremo vedremo perché il campionato di serie B regala sempre sorprese quindi attenzione che magari c'è qualche sorpresina che non ti aspetti vedremo detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao